mister Ivo Iukic finalmente qui da noi diciamo dopo tanto che ha tuonato il tempo a tempesta ha piovuto finalmente una partita vinta e la tua prima se non balderato in serie a 2 dove in altre occasioni sicuramente non meritavi di perdere però questa potrebbe essere il rilancio per cercare di quantomeno di arrivare a play out sì penso che era una partita molto simile a quella contro Bologna dove noi abbiamo sbagliato tanto in momenti dove si potevamo distaccare sul risultato più comodo e dopo prendevamo quelli gol che sono sempre gli stessi regali è una cosa che assolutamente si deve migliorare perché questa partita oggi tempo ce n'è più poco è una partita che dovevamo risolvere prima perché mi dà tanto fastidio che siamo arrivati all'ultimo minuto che si soffriva così e non c'era nessun bisogno di farlo con le assenze importanti di Capitan Giannischi che in questo caso ci supporta anche facendo le riprese e Matteo due pedine importante nello scacchiere bianco rosso grande vittoria grande prestazione di squadra dove il primo tempo chiaramente bisognava avere qualche in più sì partite così sono queste che che tornano la fiducia queste che girano forse la rota per il futuro perché vincere una partita così un scontro diretto contro la squadra che sta vicino in classifica con 55 giocatori di cui c'è Samu che non si neanche alena perché c'è un cortunio da tempo lungo e con Matthew che ha fatto prima partita sua questa stagione che stava fuori perché fuori quota mi fa veramente piacere abbiamo mostrato un carattere che era la cosa più importante ecco Ivo il carattere di questa squadra in casa lo vediamo spesso col Bologna oggi in modo particolare perché in campo esterno poi soffriamo e prendiamo sempre molti gol ma c'erano due partite secondo me molto particolari fuori casa su due campi piccolissimi che a noi ovviamente dà fastidio perché abbiamo giocatori e chi hanno bisogno di spazio veramente spero che a Prato sarà diverso perché è un campo molto simile a nostro anche forse a qualche qualche situazione che hanno deciso queste partite come espulsione di Matteo contro il Bulldog secondo me è una partita che si giocava fino alla fine se non c'era questa situazione ma sicuramente che questo atteggiamento che abbiamo mostrato oggi questo per altre dobbiamo portare con noi in Prato. I tifosi hanno ascoltato il tuo appello e il mio nell'articolo che ho fatto ieri mattina fuori casa domenica e sabato c'è un match importante Prato a pari punti con noi anche Prato ha già riposato è una partita da vincere a tutti i costi. Sì è una finale per noi ma anche per loro una partita veramente importante per tutte e due squadre una partita decisiva io sono sicuro che abbiamo trovato il nostro gioco che abbiamo trovato qualcosa diverso di quello prima perché stasera si poteva facilmente fare anche 4 5 gol in più cerchiamo come ho detto di portare tutto questo che abbiamo fatto stasera insieme con noi a Prato. Ricordiamo che il sabato prossimo rientra anche Capitan Gianneschi dopo dei turni di squalifica e Matteo però la tua squadra ogni settimana ogni partita perde qualche pezzo era di indipida e Gioari pertanto sarà squalificato. Sì Raffa è un giocatore che fa 40 minuti un giocatore veramente difficile da sostituire ma stasera abbiamo mostrato che siamo capaci di sostituire quelli che mancano torna Giulio torna Matteo sicuramente che abbiamo tutte le carte in mano per giocare questa partita perché anche a Prato mancano due giocatori importanti così non possiamo cercare gli alibi dobbiamo andare lì a prendere i punti. Ivo complimenti ancora una volta per questa sospirata vittoria e che Dio ce la mangi buona per il futuro mancano poche gare speriamo che alla fine si possa sorridere. Questo è l'obiettivo tutti speriamo in questo stasera abbiamo fatto un piccolo passo in avanti e spero che continuiamo così.